Benvenuti alla sfidata di Parigi! Con questa passerella, vi riempiamo gli ultimi raggiunti che si tratta di tutti gli ultimi decenni. E ora iniziamo! La prima coppia indossa un bellissimo coppetto da serie di ciucci! Gucci, Gucci, non ciucci! Continuando, ecco che escono in scena i prossimi modelli che sguaggiano due bellissimi coppetti sportivi di luce! Nike, Nike, non luce! Mamma mia, questa putella rappresenta tu! Molto bene, ecco arrivare gli ultimi coppetti, gli ultimi da salato e la panna! Ah ah ah, quando vedo anche te sei un poco ferrato in materia, lascia fare a me che sono un professionista! Vedo l'ultima coppia che veste le ultime decenni di Armani e Preda! Preda, Preda, ma è Prada! Armani, 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 Armani! E io cosa ho detto?